Io quello che procurrei è la cosa seguente per proseguire ad essersi. Il segnalibro sta nella pagina che inizia con il paragrafo evoluzionismo di dialettica ed è ovvio perché è chiaro, se sì, sì, non no e il resto è del diavolo, se questo è il pensiero metafisico, l'evoluzionismo è assolutamente antimetafisico. Quindi è chiaro che il dialettico sarà per l'evoluzionismo. Se il problema è quell'altro, il dialettico sarà d'accordo con i risultati della scienza. Poi confermano l'evoluzionismo, lo modificano. Non abbiamo un feticcio. Ecco, io affiderei a chi volesse la lettura di queste pagine di Trotsky che vanno dal paragrafo intitolato La B.C. della dialettica materialistica nell'edizione di San Manessarelli, semplici, a pagina 109 alla pagina 131 alla pagina 131 vediamo il paragrafo così del capitolo Un'opposizione piccolo borghese La questione organizzativa No, 131 No, 131 è l'ultima pagina del capitolo Un'opposizione piccolo borghese che è sempre lo stesso capitolo Io qui non ce l'ho Un'opposizione piccolo borghese, sei ragione Allora, il capitolo che interessa è tutto è tutto qua Un'opposizione piccolo borghese che a sto punto si possono fare fotocopie da pagina 100 cioè la facciamo tutta tutto questo capitolo quello là e da pagina 100 al pagina 131 Ora o si mette in giro quell'intervento che io feci a Cuba sull'opposizione Trotsky-Kausky e quindi la descrizione della dialettica come questo modello delle forze varie che si muovono ce l'hai? Sì, ce l'ho Anche se ce l'hai in spagnolo In spagnolo ce l'ho sicuramente forse ce l'ho anche in italiano oppure uno legge il terrorismo e il comunismo è un'ottima è un'ottima è un'ottima Grazie a tutti.